sono alfonso celotto e insegno diritto costituzionale a roma 3 molti pensano che la nostra sia la costituzione più bella del mondo io non so se questo è vero perché stabilire qual è la costituzione più bella del mondo è come decidere una volta per tutte qual è il calciatore più forte di sempre o l'imperatore romano più grande ma forse anche inutile deciderlo perché una costituzione non va valutata per la bellezza va valutata per la sua forza per la sua applicazione e la nostra costituzione repubblicana la costituzione del 1946 47 è una costituzione forte viva applicata che ci fa vivere da cittadini in una repubblica democratica da oltre 70 anni perciò dobbiamo sempre conoscerla sono particolarmente contento di questo corso un corso di diritto costituzionale grazie a pubblica la scuola di anci la pubblica amministrazione rappresenta un tema centrale per i cittadini perché in fondo le relazioni fra cittadini e stato passano attraverso l'amministrazione l'amministrazione pubblica infatti noi cittadini non entriamo in un rapporto diretto col parlamento in fondo il parlamento fa le leggi certo noi dobbiamo applicare le leggi perché ne siamo destinatari al tempo stesso eleggiamo il parlamento ma non è certo un rapporto quotidiano come anche non è quotidiano il rapporto con la giustizia anzi molti di noi sperano di non avere mai nulla a che fare con la giustizia invece quotidianamente noi siamo in rapporto con l'amministrazione pubblica perché l'amministrazione pubblica gestisce i servizi e quindi la scuola i trasporti la sanità l'amministrazione pubblica ci dà tutti i certificati le autorizzazioni ed ecco allora il passaporto la patente di guida tutti i certificati anagrafici e poi tutte le attività rispetto alle imprese in fondo l'amministrazione pubblica è la nostra vita la nostra vita quotidiana eppure la costituzione parla davvero poco di amministrazione pubblica alla pubblica amministrazione sono dedicati soltanto due articoli il 97 e il 98 l'articolo 97 ci ricorda che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizione di legge in modo che siano assicurati buon andamento e imparzialità inoltre ci ricorda il principio del pubblico concorso cioè il fatto che agli impieghi nelle amministrazioni si accede con concorso e che nell'ordinamento degli uffici sono determinate sia le competenze che le responsabilità dei funzionari poi il successivo articolo 98 ci ricorda che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione questo è molto importante perché in fondo l'impiego pubblico non è al servizio di una parte politica ma al servizio soltanto della nazione e nazione è un termine ampio omnicomprensivo perché in fondo è l'intero stato comunità cioè tutti gli appartenenti alla repubblica in ogni loro forma fanno la nazione e il pubblico impiego è al servizio soltanto della nazione poi ci ricorda anche che non possono essere promossi se non per se non per anzianità i pubblici funzionari che sono anche membri del parlamento e che la legge può dare limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per magistrati militari funzionari agenti di polizia rappresentanti diplomatici e consolari veramente la costituzione dice poco sulla pubblica amministrazione rientrano in fondo nell'amministrazione anche gli organi ausiliari cioè gli organi disciplinati nell'articolo 99 e 100 l'articolo 99 riguarda il cnel il cnel non è un vero e proprio organo dell'amministrazione perché il consiglio dell'economia e del lavoro che era visto nell'ottica dei costituenti come una specie di terza camera cioè una camera composta da esperti e rappresentanti delle categorie produttive che svolge attività di consulenza delle camere del governo delle materie di competenza quindi economia e lavoro e addirittura all'iniziativa legislativa per contribuire soprattutto per l'elaborazione della legislazione economica e sociale ecco che il cnel ha per costituzione un ruolo di consulenza un ruolo ausiliario non tanto e non solo del governo ma anche del parlamento e quindi si pone in una posizione superiore all'amministrazione laterale infatti il cnel per il costituente dovrebbe essere un organo veramente molto importante anche se poi invece ha assunto un ruolo marginale nell'attività degli ultimi anni al punto che in tutte le polemiche che hanno riguardato negli ultimi decenni gli enti inutili la casta lo stato sprecone il cnel è stato sempre visto spesso visto come l'epifenomeno quindi come l'organo più inutile della repubblica io penso che ciò non sia assolutamente vero perché nell'ottica del costituente il cnel poteva e doveva costituire il completamento della democrazia perché la democrazia passa attraverso il lavoro principio fondamentale di cui è l'articolo 1 di cui è l'articolo 4 ed ecco che il cnel dà la rappresentatività alle categorie produttive certo negli anni il cnel non è riuscito a svolgere questo ruolo ma soprattutto oggi soprattutto nelle difficoltà della nostra democrazia a mio avviso sarebbe più facile ridare vita e ruolo al cnel e non semplicemente abolirlo ma non voglio entrare in questa polemica politica voglio ricordare invece l'altro organo ausiliario l'articolo 100 nell'articolo 100 troviamo la disciplina del consiglio di stato e della corte dei conti il consiglio di stato e la corte dei conti hanno anche funzioni giurisdizionali e quindi li affronteremo nella nella lezione sulla magistratura ma qui nell'articolo 100 troviamo il consiglio di stato come organo di consulenza giuridico amministrativa del governo e poi la corte dei conti che esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e quello successivo sulla gestione del bilancio ecco allora che consiglio di stato e corte dei conti sono anche organi ausiliari ausiliari del parlamento e del governo e quindi completa nel disegno della divisione dei poteri ma a rigore consiglio di stato corte dei conti e cnel non fanno parte dell'amministrazione dell'amministrazione pubblica perché tradizionalmente l'amministrazione pubblica per noi è colei che applica la legge e la applica in maniera uguale per tutti e imparziale perché l'articolo 97 pone proprio questi principi fondamentali la pubblica amministrazione opera in maniera imparziale e secondo il principio di buon andamento sembrano principi generici generali e infatti come tali ispirano in generale l'attività dell'amministrazione ma cerchiamo di capirlo meglio la pubblica amministrazione a rigore dipende dal potere esecutivo e in fondo infatti dipende dal governo perché la pubblica amministrazione per eccellenza è la pubblica amministrazione centrale i ministeri e a capo di ogni ministero a capo dell'attività amministrativa c'è un ministro quindi un organo politico che deve dare l'indirizzo politico all'amministrazione tuttavia la pubblica amministrazione deve garantire l'imparzialità e il buon andamento perché come sappiamo la legge è uguale per tutti ed ecco allora che la legge non va applicata semplicemente in base alla volontà politica ma la legge va applicata in maniera imparziale la pubblica amministrazione nasce come una garanzia per i cittadini proprio nel passaggio dal sistema assoluto al sistema democratico perché in fondo nel sistema assoluto l'esecuzione del potere era nelle mani del re e dei suoi funzionari i quali però rispondevano al re e quindi alla volontà superiore assoluta del re ecco invece che nel sistema democratico i pubblici funzionari debbono applicare la legge e la legge va applicata in maniera imparziale uguale per tutti cioè la pubblica amministrazione dovrebbe essere quasi cieca quasi automatica nel senso che applica la legge come un grande ingranaggio in maniera meccanica e automatica questa è l'idea base della burocrazia anche se sappiamo che chiamare burocrazia la pubblica amministrazione ormai ha un significato deteriore e invece la pubblica amministrazione ma anche la stessa burocrazia che è il potere degli uffici della pubblica amministrazione dovrebbe nascere come garanzia per i cittadini per entrare nel tema della pubblica amministrazione dobbiamo porci una domanda apparentemente semplice ma molto difficile chi è la pubblica amministrazione cioè quali sono gli organi della pubblica amministrazione a una domanda del genere verrebbe da rispondere in maniera semplice ma la pubblica amministrazione sono lo stato i ministeri gli enti pubblici sì ma volendo specificarlo quali sono gli organi della pubblica amministrazione chi è pubblica amministrazione questa è una domanda veramente difficile perché forse 150 200 anni orsono la pubblica amministrazione era limitata ai ministeri e agli enti territoriali quindi province e comuni invece oggi non abbiamo più una nozione unitaria di pubblica amministrazione per due ragioni da una parte la pubblica amministrazione si è molto ampliata in tutta una serie di enti pubblici diversi e poi molto spesso la pubblica amministrazione agisce in diritto privato cioè cerca di applicare categorie civilistiche per essere più efficienti ecco allora che c'è una grande confusione per stabilire chi è pubblica amministrazione oggi nel pluralismo istituzionale abbiamo diverse nozioni di pubblica amministrazione cioè bisogna distinguere per settori e per finalità e capire quindi chi è ente pubblico a seconda dei vari ambiti essere ente pubblico oggi ha conseguenze rilevanti perché in un ente pubblico la disciplina del rapporto di lavoro sarà pubblico ci sarà la soggettabilità le regole del procedimento amministrativo ci saranno particolari regole di bilancio e contabilità il controllo della corte dei conti il patrocinio all'avvocatura dello stato la limitazione alla libertà d'azione perché in fondo la pubblica amministrazione non ha libertà negoziale ma deve solo applicare la legge e ancora l'applicazione delle regole sui contratti pubblici e gli appalti pubblici la soggettabilità al regime dei beni pubblici e in fondo ancora l'esercizio di un potere normativo generale e di autoorganizzazione l'eliminazione delle regole ordinarie di fallimento ancora l'indisponibilità dell'esecuzione forzata e l'assoggettamento alla giurisdizione amministrativa e non a quella civile ho voluto elencare le conseguenze di cosa significa oggi essere ente pubblico però al tempo stesso è difficile capire chi è ente pubblico perché come dicevo si è enti pubblici a determinati fini e come vedremo abbiamo una serie di nozioni di ente pubblico di pubblica amministrazione la pubblica amministrazione nasce quindi a inizio ottocento e nasce con compiti limitati soltanto funzioni d'ordine di polizia e quindi la polizia la difesa dello stato la giustizia le relazioni con l'estero invece nel tempo l'attività amministrativa si è molto ampliata e oggi è già difficile capire chi è pubblica amministrazione oggi possiamo dire di avere diverse nozioni di pubblica amministrazione e sono nozioni funzionali cioè nozioni applicate a determinati settori avremo l'idea di pubblica amministrazione ai fini del pubblico impiego l'idea di pubblica amministrazione ai fini della contabilità pubblica ancora quella ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi e poi quella ai fini degli appalti pubblici queste sono solo quattro ambiti quattro angoli di visione rispetto ai quali si può individuare se un ente è pubblico o è privato ma un discorso generale è sempre complicato se non impossibile nel senso che soltanto rispetto a un singolo ente si potrà stabilire se in quel dato momento storico è o meno un ente pubblico ma tuttavia per una lezione dobbiamo fare un discorso generale e quindi dicevamo possiamo avere quattro nozioni di pubblico impiego la prima è quella del pubblico impiego cioè si è pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 165 del 2001 cioè la pubblica amministrazione dei pubblici impiegati il decreto legislativo 165 recita per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato i vi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative le aziende e amministrazioni dello Stato ordinamento autonomo le regioni, le province e comuni, le comunità montane loro consorsi e associazioni le istituzioni universitarie gli istituti autonomi case e popolari le camere di commercio loro associazioni tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ARAN e le agenzie di cui al decreto legislativo numero 300 del 1999 inoltre fino alla revisione organica della disciplina di settore le disposizioni si applicano anche al CONI e quindi alle federazioni sportive questa nozione serve essenzialmente a dirci chi è pubblico impiegato ma tuttavia negli ultimi anni si è affacciata un'altra nozione più raffinata di pubblica amministrazione la nozione contabile, cioè quali sono le amministrazioni che entrano nel conto economico consolidato dello Stato quindi quali sono le amministrazioni che in fondo ricevono finanziamenti pubblici e questa è una nozione più sostanziale ed è una nozione che trova una disciplina legislativa molto accurata infatti la legge numero 196 del 2009 che è proprio la legge sulla contabilità pubblica prevede che ogni anno a fine settembre l'Istat debba pubblicare un elenco l'elenco delle pubbliche amministrazioni e normalmente noi in gazzetta ufficiale troviamo questo elenco è un elenco che raggruppa per tipologie le amministrazioni in amministrazioni centrali e amministrazioni locali e addirittura si tratta di oltre 2000 enti pubblici elencati nominativamente questa potremmo dire ad oggi è la nozione più comprensiva di pubblica amministrazione perché sono tutti gli enti che ricevono comunque finanziamenti pubblici e quindi c'è una presunzione che siano a questi fini pubblica amministrazione a chi è curioso consiglio di andare a cercare su internet lo si trova facilmente l'elenco delle pubbliche amministrazioni redatto annualmente dall'Istat nello scorrello si trovano tante sorprese perché forse gli enti pubblici sono molti di più di quanto si possano immaginare abbiamo poi almeno altre due grandi nozioni di pubblica amministrazione sempre enucleate per determinate finalità una è quella per l'accesso ai documenti amministrativi cioè chi è pubblica amministrazione soggetta agli obblighi di trasparenza e accesso cioè soggetta al fatto che i cittadini possono richiedere l'ostensione dei documenti qui troviamo la nozione nell'articolo 22 nella legge numero 241 del 1990 la famosa legge sul procedimento amministrativo ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi la nozione di pubblica amministrazione riguarda tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario un'altra nozione rilevante è quella che troviamo nel codice degli appalti cioè a chi si applica il codice dei contratti pubblici alle amministrazioni aggiudicatrici e quindi leggo qui l'articolo 3 del decreto legislativo numero 50 del 2016 alle amministrazioni dello Stato gli enti pubblici territoriali gli altri enti pubblici non economici gli organismi di diritto pubblico le associazioni, unioni, consorsi comunque denominati costituiti da detti soggetti oggi stabilire chi è pubblica amministrazione è veramente complicato e in fondo come abbiamo detto non possiamo fornire una nozione unitaria in fondo oggi si può fare soltanto un'analisi caso per caso per stabilire se un singolo ente è pubblico o privato e poi abbiamo queste nozioni di raggruppamento cioè abbiamo la nozione di pubblica amministrazione per il pubblico impiego per la contabilità pubblica per gli appalti pubblici per l'accesso ai documenti amministrativi ma è possibile sempre e soltanto una valutazione analitica e non sistematica ovviamente questo a livello globale è un sintomo evidente della complessità della pubblica amministrazione perché oggi la nozione di pubblica amministrazione è così complicata da non riuscire ad avere nemmeno una definizione unitaria volendo comunque fare una grande carrellata degli enti pubblici e della pubblica amministrazione possiamo ricordare innanzitutto gli organi costituzionali quindi Camera, Senato, CNEL, CSM, Corte Costituzionale Corte dei Conti, Uffici del Quirinale poi abbiamo la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri di cui abbiamo già parlato nella lezione sul governo poi abbiamo le agenzie che sono le agenzie fiscali previste dal Decreto Legislativo 300 e quindi abbiamo l'Agenzia delle Entrate l'Agenzia Dogane Monopoli e l'Agenzia del Demanio poi ci sono una serie di enti che regolano l'attività economica come ad esempio l'AIFA che è l'Agenzia Italiana del Farmaco poi c'è l'Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali l'Agenas l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ancora quella per la Sicurezza delle Ferrovie o del Lavoro l'Agenzia per l'Italia Digitale l'Agenzia per la Coesione Territoriale l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale l'Aran e ancora il Gestore dei Servizi Elettrici il GSE ovviamente in questo mio elenco non voglio essere esaustivo ma per tipologie poi ci sono enti pubblici che producono servizi economici come l'Agenzia Nazionale del Turismo l'ENIT l'Agenzia delle Entrate della Riscossione o ancora l'ANAS l'AMPAL la CONSIP che riguarda tutta la concessione degli appalti e delle forniture pubbliche l'ENAC per l'Aviazione Civile la Rete Ferroviaria Italiana per gestire invece la Rete Ferroviaria poi ci sono le Autorità Amministrative Indipendenti sappiamo che le Autorità Amministrative Indipendenti nascono nell'ultimo decennio del secolo scorso per portare al di fuori dei ministeri dei settori particolari in cui occorre un'autorità di regolazione che sia autonoma rispetto all'esecutivo e rispetto agli utenti ecco quindi che la prima è l'antitrust cioè l'autorità garante della concorrenza e del mercato e poi abbiamo aggiunto l'autorità delle comunicazioni la Gcom l'autorità di regolazione dei trasporti l'ART quella per l'energia le reti e l'ambiente la RERA ancora il garante per la protezione dei dati personali la commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero l'agenzia di valutazione universitaria l'ANVUR e ancora l'ANAC cioè quella per l'anticorruzione poi tutta una serie di enti a struttura associativa fra cui l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani l'ANCI ma ancora l'Unione delle Provincie Italiane l'UPI l'Unione Camere per le Camere di Commercio e ancora la Federazione Nazionale dei Consorsi o l'Unione Nazionale dei Comuni Comunità e Enti Montani UNCEM poi ci sono tutta una serie di enti produttori di servizi assistenziali ricreativi e culturali e qui l'elenco è veramente ampio perché abbiamo le federazioni sportive ma anche ad esempio la Croce Rossa l'Accademia della Crusca la RAI la Lega Italiana Tumori l'Istituto Nazionale per il Contrasto delle Malattie e della Povertà l'Unione Italiana Tiro a Segno molto ampio è anche l'elenco degli enti e delle istituzioni di ricerca perché qui abbiamo l'Enea l'Agenzia Spaziale Italiana l'Agenzia Spaziale Italiana il CNR e poi tutta una serie di enti più specifici che possono andare dall'Istituto Italiano di Studi Germanici all'Istituto Nazionale di Alta Matematica l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare l'Istituto Superiore di Sanità o ancora il Museo Storico della Fisica poi abbiamo gli istituti zooprofilattici che sono gli istituti zooprofilattici sperimentali che seguono i settori veterinari a livello locale a livello territoriale abbiamo gli enti territoriali le regioni le province le città metropolitane i comuni e poi ci sono le comunità montane le unioni di comuni poi sempre a livello locale ci sono tutta una serie di enti per il turismo e tutta una serie di enti universitari soprattutto le cosiddette opere universitarie che collaborano al diritto allo studio degli studenti poi ci sono tutti gli enti e le agenzie regionali del lavoro e ancora tutta una serie di enti regionali e provinciali per la formazione la ricerca e l'ambiente poi abbiamo tutto il sistema sanitario nazionale con tutte le ASL e una serie di agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura poi abbiamo le aziende ospedaliere poi ci sono le autorità portuali ancora in correggo ancora in materia sanitaria ci sono gli IRCS che sono questi particolari istituti di ricerca a carattere scientifico e ancora le camere di commercio i consorsi di bacino imbrifero montano i consorsi fra le amministrazioni locali poi abbiamo i parchi nazionali i consorsi fra parchi e gli enti gestori di aree naturali protette ci sono tutta una serie di consorsi interuniversitari di ricerca poi abbiamo le agenzie e gli enti regionali di sviluppo agricolo abbiamo tutte le fondazioni lirico-sinfoniche che sono anche essenti pubblici poi ci sono i teatri nazionali e quelli di rilevante interesse culturale poi abbiamo tutte le università che sono ovviamente enti pubblici e quindi vediamo che veramente l'elenco degli enti pubblici è molto vario e molto ricco perché in fondo risponde al pluralismo istituzionale della Repubblica Italiana mi sono voluto dilungare a fare l'elenco degli enti in Italia per far cogliere la difficoltà di funzionamento della pubblica amministrazione noi in fondo abbiamo oltre 10.000 enti pubblici e quello che ho fatto è un elenco soltanto esemplificativo però ci fa capire uno dei grandi problemi della pubblica amministrazione avere troppi enti gli altri due problemi principali sono avere troppe leggi e avere troppi procedimenti sulle leggi i numeri purtroppo sono chiari ho già ricordato la banca dati www.normattiva.it mi raccomando con due t che contiene tutti gli atti legislativi del Regno e della Repubblica Italiana sono oltre 200.000 atti sono atti scritti spesso in burocratese confusi stratificati ed ecco quindi che l'incertezza normativa e i troppi enti creano una difficoltà di funzionamento della pubblica amministrazione che peraltro ha anche troppi procedimenti e quindi il risultato finale è scarso cioè molto spesso noi chiamiamo la pubblica amministrazione burocrazia e la burocrazia sappiamo è un termine deteriore la burocrazia è un problema antico forse antico come il mondo perché già i sumeri avevano i loro funzionari le loro leggi e le loro regole infatti tutti ricordano il primo codice il codice sumero di Ur-Nammu a cui poi seguirà quello più famoso di Hammurabi e siamo circa al 2000 avanti Cristo ma poi i funzionari erano tipici del regno del faraone egiziano come pure della Grecia antica di Roma e così via ma è inutile che noi ci dilonghiamo a parlare di stati antichi a noi interessa la burocrazia moderna cioè la pubblica amministrazione moderna che è una pubblica amministrazione che nasce come garanzia dei cittadini perché? perché prima quando c'era lo stato assolutistico cioè fino alla fine del settecento la volontà era quella del re e il re l'attuava mediante la nobiltà certo il re a volte cercava di avere delle assemblee dei parlamenti come erano i famosi tre stati gli stati generali in Francia ma alla fine la volontà del re era quella e basta invece il capovolgimento di visione potremmo dire la rivoluzione copernicana è stata portata dalla rivoluzione francese e dalle rivoluzioni americane che hanno detto che le regole le leggi le fa un parlamento rappresentativo rappresentativo dei cittadini e a quel punto le regole vanno applicate vanno applicate da chi? dalla pubblica amministrazione da quella che chiamiamo burocrazia ma in che modo? in maniera imparziale in maniera che garantisca la parità di trattamento e quello che la costituzione chiama il buon andamento quindi l'idea della burocrazia è una idea posta a garanzia dei cittadini perché? perché tutti dobbiamo essere trattati in maniera uguale in base al principio di legalità ed ecco che allora la legalità non può trovare altra declinazione se non quella di un procedimento un procedimento il più possibile automatico imparziale anonimo perché? perché bisogna trattare tutti in maniera uguale ma fin da subito la burocrazia ha mostrato il suo difetto più grande cioè quello di produrre troppe carte e carte che spesso non sono al servizio della nazione o del cittadino ma sono al servizio di se stesse quando parliamo di burocrazia difensiva o di burocrazia autoreferenziale vogliamo intendere proprio questo cioè abbiamo una pubblica amministrazione che spesso controlla soltanto che le carte siano a posto senza andare a vedere realmente il risultato per i cittadini ma questo è un problema antico infatti possiamo citare il ministro Farina il ministro Farina è dimenticato ai più perché siamo nel dicembre del 1852 siamo addirittura nel regno di Sardegna quindi non ancora nel regno d'Italia e in quel dicembre 1852 si discuteva alla camera dei deputati del regno di Sardegna il riordinamento dell'amministrazione centrale dello stato quindi vedete un problema antico perché già allora si facevano riforme e riordini e il ministro Farina parlando in parlamento raccontava proprio il caso del miglioramento di una strada e quindi del procedimento per fare i lavori sulla strada e cosa metteva in luce metteva in luce le decine di passaggi i tempi morti del procedimento cito testualmente accusava quell'anno di rivieni di documenti da un ufficio all'altro e quelle complicazioni di scritturazione di corrispondenza e di contabilità quindi il problema delle troppe carte il problema dei tempi lunghi è antico quantomeno come il regno d'Italia se non di più nel senso che da sempre abbiamo una burocrazia troppo complicata e i tentativi di riforma hanno accompagnato tutto lo Stato italiano voglio leggere parole di Francesco De Santis grande personaggio del nostro regno nel suo programma elettorale del 1865 ci diceva che le lotte politiche hanno tolto il tempo alle riforme amministrative perché nessun ministro è durato tanto tempo da compiere e attuare tutto il suo programma perché le discussioni sono state interminabili le interpellanze infinite perché i ministri non hanno avuto l'autorità e la forza di spezzare tutti gli ostacoli che a riforme oppongono gli interessi equalizzati le abitudini inveterate la resistenza passiva la rilassatezza delle amministrazioni sono parole del 1865 eppure sembrano parole di oggi forse con un linguaggio un po' aulico cioè nel senso che i problemi della pubblica amministrazione sono problemi già da allora ben noti e dobbiamo dire che tutti i governi si sono impegnati a fare delle riforme cito rapidamente la grande riforma del 1887 di Crispi che cercò di cambiare il volto all'amministrazione facendo poi un rapporto lo studio sullo stato dell'amministrazione che venne coordinato dal consiglio di stato del 1892 ma intanto l'amministrazione cominciava a crescere e lo stato italiano si stava modificando siamo all'epoca dei giolitti quando si arriva al suffraggio universale maschile che forse è stata una delle riforme più importanti dello stato italiano perché finalmente ha eliminato il voto per classe e per censo eppure già allora ci si lamentava degli sprechi eppure ci si lamentava già del cattivo funzionamento dello stato per esempio ho trovato le memorie del ministro finali gaspere finali è stato più volte ministro all'inizio del novecento e poi anche presidente della corte dei conti nelle sue memorie racconta un passo del 1907 chi entri oggi nell'atrio del cortile di palazzo braschi ovvero il ministero dell'interno o in quello della consulta dove il ministero degli affari esteri vede sempre e numerose in certe ore carrozze e carrozzelle nonché ministri e sottosegretari e di queste se ne servono direttori generali capi di gabinetto funzionari inferiori sono vetture che si pagano a mese sul bilancio dello stato quanta differenza da torino da firenze e dai primi anni che eravamo a roma questa testimonianza è molto interessante perché è una testimonianza che praticamente già accusa le auto blu e già allora rimpiange i tempi passati di quando la capitale era a torino era a firenze o i primi anni in cui era arrivata a roma questo cosa significa certo le sedi dei ministeri sono cambiate perché oggi il ministero dell'interno non è più a palazzo braschi e il ministero degli esteri non è a palazzo della consulta ma tuttavia le abitudini per anni sono state sempre quello e anche il rischio degli sprechi anche se sappiamo spesso l'auto di servizio o la carrozza di servizio sono assolutamente utili per il funzionamento dell'amministrazione il problema sono i cattivi utilizzi e le malvessazioni la prima guerra mondiale mise in grande difficoltà lo stato italiano anche perché lo stato si trovò impoverito e soprattutto si trovò a dover assumere moltissime persone perché proprio negli anni della guerra i dipendenti passarono da 300.000 a 500.000 e fu quella anche una misura sociale cioè potremmo dire una misura anticipata di reddito di cittadinanza per dare un posto di lavoro a tante persone e anche alle prime donne che in quegli anni entrarono nell'amministrazione però lo stato aveva bisogno di semplificazione e già allora il governo Nitti nel 1916 usa la parola semplificazione pensate che nel 1917 viene insediata la commissione per la semplificazione e ne viene insediata una per ogni ministero e venne anche fatta una relazione la relazione fatta dal ministro Schranzer che era allora ministro del tesoro che già allora segnava le esigenze di semplificazione normativa decentramento burocratico miglioramento delle procedure sono quelli gli anni in cui Don Sturzo fonda il partito popolare con il famoso appello ai liberi e forti del 1919 leggerlo oggi impressiona perché già allora Don Sturzo chiede la riforma della burocrazia e degli ordinamenti giudiziari e la semplificazione della legislazione quindi i problemi di oggi sono già problemi di allora problemi di cento anni fa tutti questi sforzi servono a poco e Luigi Enaudi che poi diventerà presidente del consiglio l'11 febbraio del 1922 pubblica un editoriale su Corriere della Sera il titolo è emblematico l'insuccesso fatale della riforma burocratica anche il regime fascista fu chiamato ad affrontare i problemi della burocrazia mi ha impressionato trovare un discorso di Mussolini il 19 giugno del 1925 alla Camera dei Deputati è necessario che tutti dal primo all'ultimo non facciano sabotaggio ai ruotismi della burocrazia perché in tre anni di governo ho constatato che parecchie volte i provvedimenti che erano urgenti morivano e stagnavano sui tavoli di molti burocrati che vanno a perpetrare questa specie di sabotaggio alla nazione tutto questo deve finire per tutti eppure possiamo dire che neanche Mussolini ci riuscì perché le riforme che vennero avviate non trovarono successo e l'amministrazione italiana arriva veramente in grande difficoltà all'Assemblea Costituente perché abbiamo uno Stato impoverito spaccato diviso dalla guerra civile con un numero di pubblici dipendenti importanti perché nel 1943 si era arrivati ad avere quasi un milione e mezzo di pubblici dipendenti e ci sono anche romanzi che raccontano quegli anni quegli anni in cui la burocrazia vive con difficoltà basta leggere Gadda basta leggere Levi per accorgersi di come era difficile la macchina dello Stato in quegli anni lo Stato italiano tentò di superare tutte le difficoltà dell'amministrazione fascista avviò l'operazione della epurazione di tutti i gerarchi di tutte le persone connesse al fascismo e poi finalmente si mise a lavorare si mise a lavorare sia in Assemblea Costituente con le prime relazioni la relazione della Commissione Forti lo studio sulla riforma dell'amministrazione pubblica e poi in Assemblea Costituente questo problema come già detto viene solo sfiorato perché l'Assemblea Costituente si limita a individuare i principi e quindi i principi dell'articolo 97 il buon andamento l'imparzialità ma non affronta la riforma dell'amministrazione tuttavia da subito fin dai primi governi della Repubblica Italiana si affronta il problema infatti nel 1950 ancora il governo De Gasperi nomina per la prima volta il ministro per la riforma burocratica avremo in due governi il ministro della riforma burocratica e poi ci sarà un sottosegretario sempre per la riforma burocratica voglio citare Roberto Lucifredi Roberto Lucifredi in quell'anno fu proprio sottosegretario della riforma burocratica che cosa ci dice anno 1951 sebbene la riforma dell'amministrazione occupi tra le esigenze politiche dei nostri tempi e del nostro paese un posto preeminente e sotto molti punti di vista vada addirittura considerata urgente anzi addirittura indilazionabile tale riforma non è stata realizzata dalla nuova Costituzione che si è limitata a porre qualche principio che dovrà guidare e potrà agevolare l'opera del futuro legislatore a cui è lasciato l'onere di procedere alla riforma medesima e tutta la vita dei primi governi della Repubblica si accompagna al tentativo della riforma burocratica perché tutti i ministri ci provano avviando anche operazioni ambiziose per esempio mi viene da ricordare la legge del 1956 la prima legge sul tagliaenti cioè la legge tesa proprio ad eliminare i troppi enti perché già allora ci si era accorto del problema centrale troppi enti significa allungare i procedimenti allungare i tempi allungare i passaggi di carte e quindi significa allungare il risultato dell'amministrazione legge 14 dicembre 1956 numero 1404 soppressione messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale ma anche lì questa procedura non riuscì a portare lontano perché pochi enti sono stati aboliti e molti di questi hanno richiesto 60 anni di liquidazione perché sappiamo che abolire un ente è molto difficile perché fino a che resterà un dipendente un rapporto pendente una causa un immobile bisognerà comunque dare una gestione liquidatoria e quindi portare avanti la vita dell'ente le riforme sono state importanti e potremmo dire che tutti i ministri hanno provato a fare qualche riforma infatti ogni governo ha nel suo programma la riforma del pubblico impiego la riforma della burocrazia e sono state emanate leggi importanti anche se già allora ci si scagliava contro il mondo della burocrazia noi pensiamo che tutta la polemica contro la casta contro la burocrazia sia recente e invece nel 1963 allora c'era un giornale molto autorevole si chiamava il mondo e lo dirigeva Mario Pannunzio uno dei più grandi giornalisti dell'epoca e dedicò un intero numero un intero fascicolo all'inchiesta sul mondo dei direttori generali e il titolo era eloquente la casta dei bramini quindi già allora esistevano questi problemi e sono problemi che tutti hanno cercato di risolvere perché in fondo ogni ministro ha portato avanti la sua riforma io spesso dico per scherzare che la nostra pubblica amministrazione è ammalata di riformite cioè sono state proposte e tentate troppe riforme ma poi queste riforme non sono state mai attuate ma perché? perché ce lo diceva De Santis nel 1865 in fondo nessun ministro è stato in carica un tempo adeguato per portare a termine una riforma noi sappiamo che le riforme non sono soltanto da annunciare ma sono da attuare concretamente e l'attuazione di qualsiasi riforma necessita necessariamente mesi se non anni e quindi se in un anno cambia il governo cambia il ministro ecco che il nuovo ministro farà una nuova riforma e nulla realmente sarà fatto forse uno dei tentativi più famosi di riforma è stato quello del ministro Giannini Massimo Severo Giannini è stato uno dei massimi professori di diritto amministrativo dello stato italiano ed è stato addirittura pensate capo di gabinetto del ministro per la costituente quindi i problemi dell'amministrazione li conosceva bene nel 1979 è ministro della funzione pubblica e avvia il rapporto Giannini il rapporto Giannini è un rapporto di una trentina di pagine che ancora oggi andrebbe letto e anzi io consiglio a tutti di leggere perché è impressionante vedere come sintetizza tutti i problemi innanzitutto Giannini ci racconta le riforme e dice che spesso le riforme si sono concentrate sulla riparazione degli ossicini cioè questa figura metaforica ci rende esattamente le idee le singole riforme vanno a modificare spesso soltanto un pezzettino si semplifica il procedimento per la carta di identità si semplifica il procedimento per la patente di guida ma manca la visione cioè manca l'insieme il cercare di modificare il sistema e tante volte modificare il procedimento di un singolo documento di un singolo atto finisce col complicare e non con il semplificare la conclusione del rapporto Giannini è veramente lapidaria la voglio leggere revisioni di tecniche riordinamenti ristrutturazioni riforme di pubbliche amministrazioni da sole non basteranno occorrerà che siano accompagnate da modernizzazione delle leggi regolative delle azioni amministrative sono due le condizioni per riportare la pace fra pubbliche amministrazioni e cittadini la pace non la fiducia perché questa non dipende da leggi e non si avrà finché non sia cancellata da una diuturna opera illuminata di uomini l'odierna figura dello Stato per i cittadini esso non è un amico sicuro e autorevole ma una creatura ambigua irragionevole lontana la situazione è sì gravissima ma non è irreversibile si confida che la saggezza del Parlamento possa dare la spinta che occorre a tutti per iniziare a risalire ci fanno molto pensare queste parole di Giannini sono parole che ormai hanno 40 anni ma sono parole che individuano il problema la complicazione dell'amministrazione ha fatto sì che ormai l'amministrazione è difficile da riformare perché non basteranno riordinamenti riforme ristrutturazioni bisogna cambiare registro e solo cambiando registro cambierà il rapporto tra Stato e cittadini perché in fondo noi cittadini abbiamo paura dello Stato in fondo noi non ci sentiamo cittadini ci sentiamo sudditi abbiamo sempre paura del controllo dello Stato di polizia tutto ciò è stato evidentissimo poi nell'epoca della pandemia nell'epoca del Covid perché lì abbiamo ancora visto come sono state limitate le nostre libertà e quindi come siamo tornati a essere sudditi a essere sottoposti ai controlli dello Stato ma questo cosa accade è giusto che lo Stato controlli ma finché noi cittadini non avremo fiducia dello Stato e dell'amministrazione non riusciremo mai davvero a collaborare nell'interesse pubblico generale e ciascuno di noi cercherà inevitabilmente di eludere l'amministrazione avendo paura di controlli ingiusti perché vediamo lo Stato come una creatura ambigua irragionevole e lontana anche la riforma Giannini non è andata in porto e successivamente ci sono stati altri ministri che hanno avviato riforme importanti per l'amministrazione il pubblico impiego e la burocrazia voglio ricordare Cassese Bassanini Patroni Griffi Brunetta Giulia Bongiorno tutti i ministri ci hanno provato e ci hanno provato anche con grande passione e buone intenzioni ma allora dopo 150 anni di riforme non realizzate dobbiamo ancora pensare che lo Stato sia quello del ministro Farini cioè lo Stato dell'anno di rivieni di carte purtroppo sì e dobbiamo pensare che sia riformabile a mio avviso no perché oggi abbiamo una grande possibilità la pubblica amministrazione si sta confrontando con il digitale il digitale è veramente un mondo nuovo ed è un mondo che può consentire una vera riforma della pubblica amministrazione però non deve essere una riforma che inserisce pezzi di digitale all'interno dei procedimenti amministrativi noi oggi troppo spesso vediamo questi procedimenti misti cioè lasciamo il procedimento tradizionale il modulo da compilare modulo dove peraltro dobbiamo comunicare informazioni ben note l'amministrazione nato residente codice fiscale ma oggi quel modulo lo dobbiamo stampare da internet firmare con firma digitale e inviare via PEC questa non è semplificazione ma spesso complica la vita perché io a mia volta devo richiedere la PEC abilitare la firma digitale trovare una connessione noi dobbiamo pensare a un'amministrazione completamente nuova cioè un'amministrazione solo digitale in fondo se prendiamo proprio il mondo delle app dei telefonini siamo entrati in un nuovo mondo era impensabile potere da un'app del telefonino fare tutto pagare fare la spesa comprare qualsiasi cosa noi dobbiamo pensare a un'amministrazione del genere un'amministrazione completamente riformata e in questo digitalizzata dobbiamo pensare a una sola app di stato con cui io posso parlare con tutte le pubbliche amministrazioni perché uno dei grandi problemi per il cittadino è proprio quello doversi rivolgere all'Inps alla scuola all'università alla questura alla ASL al comune ed ecco allora la complicazione del procedimento ai troppi enti le troppe regole il digitale può essere veramente la riforma ideale ma ovviamente deve essere un digitale fatto bene di tutto questo la Costituzione non poteva averne consapevolezza perché la Costituzione non conosceva ancora il digitale sappiamo che la Costituzione a stento disciplinava la stampa non aveva la radio la televisione internet ma oggi questi mezzi di comunicazione possono consentire di affrontare e risolvere problemi che da 150 anni lo Stato italiano non risolve cioè i problemi di funzionamento della pubblica amministrazione perché come abbiamo visto la pubblica amministrazione è una grande macchina e dal punto di vista soggettivo è anche ben organizzata forse abbiamo troppi enti e questi troppi enti andrebbero snelliti e semplificati ma quello che è importante per il cittadino rispetto alla pubblica amministrazione è il buon andamento e le parole buon andamento dell'articolo 97 intendono la funzionalità l'efficienza e oggi l'efficienza si può raggiungere col digitale non vedo altro strumento perché altrimenti semplificazioni e riforme cadranno sempre nella stessa riformite e continueremo a leggere i discorsi di cent'anni fa che già chiedevano semplificazione della burocrazia e semplificazione della normazione nessuna riforma nessuna riforma che si può raggiungere che si può raggiungere e semplificazione che si può raggiungere e semplificazione che si può raggiungere che si può raggiungere che si può raggiungere e semplificazione che si può raggiungere che si può raggiungere che si può raggiungere Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS